ed eccoci qua ragazzi oggi giornata del rientro si rientrerà verso casa però un passo adesso vediamo qua tra l'italia e l'austria passo nuovo peppe per me nuovo premo prema rollo prema rollo insomma ricordo bene ve lo dirò dopo quando lo faccio poi dritto verso casa è stata una bella esperienza qua ieri in quel di villa che sono andato alle terme consigliatissimi le terme di villa co villa che molto consigliata se volete un giorno di relax comunque è stato penso un viaggio questo bello di crescita personale come sempre quando si viaggia da soli viaggio in cui ho provato comunque a a fare delle strade un po inedite anche perché la valuterete poi voi dai video comunque vi lascerò come ripeto tutte le tracce online visto che ho un sito lo sfrutterò per appunto darvi la traccia le tracce dovrei riuscire a caricare le spero eccoci i ragazzi ai piedi del passo pramollo passo pramollo prima volta che si parte col passo pramollo aperto ho fenn ho fenn ho fenn ho fenn e via che si parte col passo pramollo pramollo ragazzi e via che si parte col passo pramollo che si parte col passo pramollo come lo passen come lo passen bello bello ragazzi bello e il pramollo passen qua in Austria ci sono delle strade incredibili ragazzi mamma mia bramollo passen wow wow che serpentina e il pramollo passen bravo autisto spettacolo e il pramollo passen passa un pramollo e si rientra in Italia e dopo più di dieci giorni si rientra in Italia e guardate come si rientra spettacolo spettacolo va che non è dritto va che non è dritto va che non è dritto e oggi mi sto divertendo e il pramollo passo del pramollo e il pramollo ma soffè del pass bello bello ma stanno facendo impianti di risalita i nuovi impianti di risalita e va qua che spettacolo passo del pramollo ci siamo molto bello molto bello Pontebba comune di Pontebba passo pramollo ecco qua aspetta che faccio passo pramollo passo pramollo fotino ragazzi ci siamo si vede che ci stiamo avvicinando l'Italia iniziano le buche eccoci intersporrent confini italiani ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo qua si è dall'Austria eccoci qua eccoci qua confini italiano eccoci qua eccoci qua eccoci qua bello bello per me non l'ho mai fatto eh per cadere tutto porco passo pramollo ecco qua fotina la facciamo qua fotina e siamo in Italia ma che spettacolo bellissimo mai fatto sto passo mai fatto bello bello molto bello ragazzi proprio un bel passo ragazzi sarebbe bello anche farlo contrario la prossima volta vengo in Austria passo il pramollo al contrario bellissimo ho vogliato un po' la curva e che cacchio bellissimo bello ma che passaggi bellissimo spettacolo boccio pietrina via alle prime luci dell'alba guardate qua bello quattro tornanti a registrare che spettacolo guardate qua la galeria altra galleria molto bella non si vede niente oh mamma bello passo del promollo tanta roba passo 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 che strada ragazzi poi tenuta bene miracolosamente una bella strada e niente un viaggio del lungo viaggio diciamo delle ferie 2024 sicuramente seguiranno altri video sperando di continuare ad essere abbastanza proficuo e con i video vi ricordo vi ricordo se non lo avete ancora fatto di iscrivervi al canale siamo sempre di più e vi ringrazio abbiamo passato i 2000 iscritti quindi grazie ancora della fiducia e spero spero di portarvi contenuti sempre più belli e niente ragazzi vi ricordo che vi lascerò il link se avrò trovato la soluzione per lasciarvi le tracce dei percorsi che ho fatto in questi giorni di vacanza comunque adesso strutturerò il sito anche per avere appunto quando faccio i vari video di lasciarvi anche le tracce tutto gratuito per voi quindi vi basta mettere per me è sufficiente che mettete un mi piace e iscriviate al canale più si può ragazzi vi posso proporre sempre più roba nuova più più viaggi importanti e magari anche più lunghi quindi non solo due settimane ma tre un mese due mesi due anni un giro del mondo ragazzi quindi importantissimo un bel like un bel like e una bella iscrizione se non l'avete ancora fatto per me sarebbe fantastico e adesso si rientrerà verso casa grazie ancora e ciao ciao ciao